Virginia Cacioppo evitava le pozzanghere saltellando sui tacchi alti. Il suo corpo florido ondeggiava qua e là, appesantito dal grosso bagaglio che portava con sé. Affrontò le scale allegramente. Era stata una cantante lirica ed il fiato non le mancava. «Eccola la nostra Virginia, pronta per la grande avventura!» esclamò la padrona di casa quando la sentì entrare. Era indaffarata davanti al pentolone, usato per lavare i panni, che bolliva sul fuoco. Rimescolò un'ultima volta e poi indicò il tavolo della cucina. «Prego, prego, si accomodi!» La donna si sedette al solito posto, dove tante volte Leonardo Cianciulli le aveva letto la mano e le aveva dato consigli. «Vedrà che si troverà bene a Firenze e presto il mio amico le troverà qualche scrittura», disse Leonardo mettendosi di fronte all'ospite, senza però sedersi. Poi le spinse davanti un tacquino con una penna. «Ecco, scriva qui l'indirizzo del mio amico. Un momento, vado a prenderlo!» Si allontanò per pochi secondi e tornò tenendo qualcosa sotto il grembiule. Si fermò alle spalle della donna e cominciò a dettare. L'indirizzo è «Virgini alzò la penna» e la scure si abbatté sulla sua testa, fracassandogliela in due. Leonardo Cianciulli, detta Nardina, ma nota in più come la saponificatrice di Corregio, era nata a Montella, in provincia di Avellino, nel 1893. Ci sono due storie sulla sua famiglia. La prima racconta che sua madre era stata arrapita ed abusata da un uomo che poi ha dovuto, costretta dai genitori, sposare, poiché è rimasta incinta e che quindi Leonardo era il frutto di uno stupro, mentre l'altra la vede nascere ultima figlia in una famiglia parecchio numerosa. Di una cosa però siamo assolutamente certi. La donna che l'aveva messa al mondo la detestava e non mancava abitualmente di farle presente quanto fosse stata un errore. Leonardo, sempre messa in disparte, disprezzata addirittura dai suoi fratelli, si era creata un mondo tutto suo, popolato da amici immaginari con cui era solita intrattenere conversazioni. Durante la crescita soffrì di solitudine, accompagnata da attacchi epilettici ed incubi spaventosi. Provò ad uccidersi diverse volte, ma ogni tentativo di suicidio risultò fallimentare. Era una bambina infelice e desideravo morire. Cercai due volte di impiccarmi, una volta arrivarono in tempo a salvarmi e l'altra si spezzò la fune. La mamma mi fece capire che le dispiaceva rivedermi viva. Una volta ingoiai due stecche del suo busto, sempre con l'intenzione di morire, e mangiai due cocci di vetro. Ma non accade nulla. Quando cominciò la scuola, potei finalmente socializzare. Diventò l'amica con cui tutti volevano parlare. Le piaceva raccontare dei rapporti sessuali che tante volte aveva con i ragazzi molto più grandi di lei. La compagnia maschile era per me un passatempo. Saltavo di qua e di là senza pensarci troppo a lungo. Non ero bella, il mio aspetto fisico aveva bisogno di un contraccolpo. E ogni maschio che mi desiderava era un modo come un altro per non sentirmi brutta. Dopo diverse relazioni incontrò l'uomo che poi diventò suo marito, Raffaele Pansardi. La madre, contraria a questa unione, l'aveva già promessa ad un suo cugino, ma Leonardo non volle sentire ragioni. La donna, che già maltollerava sua figlia, non solo non si presentò al matrimonio, ma la maledisse fino all'ultimo dei suoi giorni. Leonardo, rimasta molto impressionata poiché credeva nella magia, cominciò a sognarla. Sua madre, ormai protagonista dei suoi incubi, continuava a disegnarla e maledirla. L'ira di Dio, che non voleva avere pietà di me, mi era stato detto e predetto in due occasioni. Mia madre, in punto di morte, mi augurò una vita piena di sofferenze e una zingara, guardandomi dritta negli occhi, pronunciò senza esitare queste parole. Ti mariterai, avrai figliolanza, ma tutti moriranno i figli tuoi. Durante il matrimonio provò ad avere figli e per ben 13 volte i bambini morirono tutti. Ebbe tre aborti spontanei e dieci neonati morti durante i primi mesi di vita. L'influenza spagnola, in quegli anni, uccise decine di migliaia di persone in tutto il mondo, ma lei si convinse che la colpa fosse di sua madre e delle sue maledizioni atroci, proprio perché prima di ogni tragico evento quest'ultima le appariva in sogno. Leonarda era disperata, consultò maghe e fattucchiere di ogni tipo pur di liberarsi dalla maledizione e per ben quattro volte riuscì ad avere figli, Giuseppe, Bernardo, Biagio e Norma. L'ultima arrivata però cominciò ad avere problemi di salute, così per guarirla si strappò otto denti, gettandoli nella stufa. Il rito fece effetto e la bambina guarì. Nel suo paese non era vista di buon occhio, compiva piccoli furti e truffe, come quella volta in cui fece credere ad una famiglia che il loro figlio morto in guerra fosse ancora vivo e prigioniero e che necessitava di soldi che lei avrebbe potuto fargli avere. I genitori del ragazzo non ci credettero e la denunciarono. Leonarda fu condannata a quattro anni di prigione che non scontò mai a causa di un'amnistia. Nel 1930 in Irpinia ci fu un disastroso terremoto che rasse al suolo diverse abitazioni, tra cui quella di Leonarda. La famiglia fu così costretta a trasferirsi a Correggio. La casa in cui vivevano era fattiscente, riuscirono ad andare avanti grazie alla generosità dei vicini che spesso aiutavano regalando vestiti e mobili. Il marito trascorreva le giornate in osteria a bere, mentendo alla moglie. Così lei si rimboccò le maniche, facendo i lavori più disparati. Era mediatrice, commerciante di abiti usati e sfruttò tutti gli insegnamenti che aveva ricevuto dalle maghe fattucchiere che aveva conosciuto, cominciando a sua volta a leggere la mano, predire il futuro, scongiurare malocchi e fare fatture. Nonostante questo, Leonarda era considerata una persona affidabile e benevola, il perfetto ritratto di una madre fascista. La regina del focolare si occupava con diligenza dei figli e del vicinato. Preparava sempre torte e dolci che offriva a tutti, invitandoli per il tè. La sua clientela cominciò a crescere, ed erano sempre più le donne che si rivolgevano a lei, che con grande simpatia ed allegria riusciva a conquistare la fiducia di tutti. In poco tempo, Cassa sua diventò un ritrovo di donne di ogni tipo e di ogni estrazione sociale, in cerca di un consiglio, un aiuto o una pozione. Finalmente aveva abbastanza soldi per prendersi cura dei suoi adorati figlioli, in particolare Giuseppe, il suo preferito, il primo ad essere scampato alle maledizioni della madre. Il ragazzo, nel 1939, si iscrisse all'università ed in seguito sua madre gli trovò un impiego, mentre gli altri figli frequentavano le scuole. Tutto andava bene, a parte suo marito, che tornava ogni giorno a casa ubriaco e senza un lavoro. Finché una sera, dopo una discussione, l'uomo sbatte la porta e senza mai voltarsi indietro sparì dalla vita della donna senza farvi più ritorno. Senza suo marito, con la fama che cresceva e con gli affari che le fruttavano diversi guadagni, ebbe la possibilità di trasferirsi in una nuova casa, esattamente in via Cavour 11A, assumendo addirittura una domestica. C'è chi disse che lo aveva gettato nel pentolone, ma non avrei mai avuto motivo per farlo. Ha preso le sue cose ed è sparito di scena. Non ricordo di aver provato nostalgia. Erano anni che mio marito non lavorava. Usciva di mattina e tornava la sera. Passava le sue giornate a bere e, chissà, magari a farsi trastullare da qualcun'altra. Mi innamorai di nuovo ed ebbi una relazione con Abelardo Spinelli. C'era forse qualcosa di male? Dove sta scritto che una donna si nutre solo di lavoro e famiglia? Certe convinzioni le lasciai a quelle che venivano a farsi leggere il futuro. Inaspettatamente, come un fulmine a scel sereno in un lungo periodo di calma piatta, una notte Leonardo ebbe di nuovo un incubo. Sua madre era tornata più minacciosa di prima, pronta ad augurarle il peggio. Presa dal panico più totale, credette che il suo prediletto, Giuseppe, fosse in pericolo. Avrebbe potuto avere una malattia? O forse essere chiamato in guerra in quanto idoneo alla leva? Leonardo non lo avrebbe mai permesso. Suo figlio era la cosa più importante per lei. Così, spaventata, si mise a letto. Preoccupata, si addormentò diverse ore dopo. Un nuovo sogno, ma questa volta era diverso. C'era la Madonna con un bambino nero tra le braccia e le diceva che l'unico modo per salvare i suoi figli sarebbe stato sacrificare altre persone al loro posto. Una volta sveglia, Leonardo cominciò ad elaborare il suo piano. Avrebbe dovuto trovare delle persone da sacrificare per il bene dei suoi figli. Ma chi? Non potevo sopportare la perdita di un altro figlio. Quasi ogni notte sognavo le piccole bare bianche inghiottite una dopo l'altra dalla terra nera. Per questo ho studiato magia. Ho letto i libri che parlano di chiromanzia, astronomia, scongiuri, fatture e spiritismo. Volevo apprendere tutto sui sortileggi per riuscire a neutralizzarli. Le vennero in mente le sue clienti, quelle più disperate, le più anziane, quelle che avrebbero potuto credere alle sue parole qualora avesse inventato frottole. Scelsi tre donne che mi erano molto affezionate e che in comune avevano una cosa, non c'era più senso reale che giustificasse la loro esistenza. Non avevano figli né uno straccio di uomo a cui dedicarsi, non avevano un lavoro né interessi particolari, vivevano di ricordi legati ad un passato che con il presente non aveva niente a che vedere, figuriamoci col futuro. Chi meglio di loro avrebbe potuto salvare le giovani vite dei miei cuccioli? Non smisi mai di ringraziarle. Faustina Setti, una donna che sperava di incontrare il principe azzurro nonostante la veneranda età di 70 anni, si recò da Leonardo per farsi leggere la mano, chiedendole se nel suo futuro ci fosse un uomo. Il piano era già in atto, le disse di conoscere un uomo benestante di Paula che si sarebbe potuto prendere cura di lei. La donna, che aveva perso da poco il figlio e viveva nella più totale solitudine, ne fu entusiasta ed accettò. Leonardo le consigliò quindi di vendere tutti i suoi averi, in modo tale da non presentarsi dall'uomo a mani vuote e di non raccontare niente a nessuno poiché l'invidia delle altre donne avrebbe potuto scatenare malocchi. Il 18 dicembre 1939 Faustina era pronta, comprò un vestito nuovo, si curò nell'aspetto e andò dal parrucchiere tingendosi i capelli di biondo. Passò così da Leonardo, intenta in quel momento a fare il sapone con ossa di maiale in acqua e soda caustica. Congedò la domestica e rimase da sola con Faustina, esortandola a scrivere una cartolina di saluti per la famiglia di conoscenti, che avrebbe poi spedito da Paula. Era quello il momento giusto. Mentre Faustina rileggeva il testo della cartolina ad alta voce, Leonardo si avvicinò mettendosi alle sue spalle, in modo tale che non la potesse vedere e con un colpo deciso di martello le spaccò la testa in due. Prese il corpo e lo tagliò in tanti pezzi, nove per l'esattezza, aiutandosi con i coltelli e con la sega. I pezzi più grandi finirono nel pentolone in cui stava facendo il sapone con la soda caustica ed una parte venne gettata un po' nel fiume, un po' nel pozzo nero, mentre il sangue raccolto in un catino venne fatto seccare. Poco dopo lo avrebbe unito a farina, zucchero e cioccolato per farne dei dolci. Alcuni dicono da servire alle suoi clienti, mentre per altri venne fatto mangiare ai suoi figli come rituale per renderli immortali. Mise da parte i vestiti e conservò i soldi della donna. Il pentolone emanava un odore nauseabondo e da esso fuoriusciva una quantità enorme di grasso marrone e rossiccio. Leonardo lavò il pavimento e dopo il ritorno della domestica attese quello del figlio, con cui poi si allontanò per parlare. Gli disse che sarebbe dovuto andare a Pola ad imbucare una cartolina per un'amica, proprio quella che la povera Faustina aveva scritto poco prima di morire tragicamente. Leonardo pensava di essere ormai al sicuro dalle maledizioni della madre, eppure questa le apparve altre due volte in sogno. Questo significava solo una cosa per lei, altre due vittime in sacrificio. La seconda a morire fu Francesca Soavi, una donna di 55 anni, che si occupava dei bambini del quartiere. La donna, che sognava di cambiare vita, non ci pensò due volte ad accettare l'offerta che Leonardo le fece, quando, nuovamente come mediatrice, le disse di essere in contatto con un sacerdote di Piacenza, direttore di un collegio in cerca di un insegnante. Erano già i primi di settembre, e Leonardo consigliò alla donna di affrettarsi e partire prima possibile, onde evitare che qualcuno arrivasse prima di lei per soffiarle il posto, e che le avrebbe venduto i suoi averi per poi spedirle i soldi in seguito. Così, già dal 5 del mese, Francesca, in fretta e furia, si recò da Leonardo per salutarla. Lei era già pronta, il piano era sempre lo stesso. Mentre la donna era intenta nel rileggere le cartoline da spedire alle amiche, Leonardo la colpì con un colpo secco di scure dietro la testa, uccidendola sul colpo. Casualmente, poco dopo, si presentò Marta, un'allieva della vittima, a cui venne detto però che quest'ultima era andata via poco prima con due sore ed un sacerdote. Il corpo di Francesca in realtà giaceva in solaio, pronto ad essere lavorato dalla saponificatrice di Correggio. Anche questa volta, il sangue venne utilizzato come ingrediente per i pasticcini, ma fu difficile invece liberarsi del corpo, più formoso rispetto a quello della prima vittima. Decise di immergerlo nel pentolone di soda caustica e di tagliare a parte la testa, dandola in seguito al figlio per disfarsene. I dubbi che cominciavano a nascere nelle amiche e conoscenti delle due vittime, che non sentivano da settimane, vennero placati quando arrivarono delle lettere da Piacenza e da Pola, spedite appositamente da Giuseppe. Arrivò il momento della terza vittima. Virginia Cacioppo, una vedova di 59 anni che durante la giovinezza aveva riscosso una certa fama come cantante lirica. Sognava di ritornare ad esibirsi come un tempo e Leonardo le confidò di averle trovato un'occupazione in un teatro di Firenze, promettendole che il suo contatto gli avrebbe concesso un'audizione. Anche a lei toccò la sorte delle altre donne, sciolta in un pentolone con della soda caustica, ma questa volta l'assassina ebbe l'accortezza di non sprecare tutto quel grasso. Così decise di realizzare delle saponette profumate, da regalare alle clienti e vicine di casa. Dalla donna rubò il denaro ed anche diversi gioielli. Finì nel pentolone come le altre due, ma la sua carne era grassa e bianca. Quando fu disciolta vi aggiunsi un flacone di colonia e dopo una lunga bollitura ne vennero fuori delle saponette cremose. Virginia si era confidata con una sua cognata che risiedeva a Napoli. Questa, non avendo più sue notizie, preoccupata, decise di recarsi a Correggio e denunciarne la scomparsa ai carabinieri, che però non le diedero troppo adito. La donna non si diede per vinta, cercando di ripercorrere le ultime giornate della cognata, cominciò ad investigare per conto suo, venendo a conoscenza della scomparsa di altre donne. Anche Francesca, la seconda vittima, aveva fatto confidenze sulla vicenda alla sua vicina di casa. Si recarono dal commissario Serrao, a cui avevano raccontato delle loro scoperte. Questo, che credeva nelle affermazioni delle donne, prese a cuore la vicenda ed aprì un'inchiesta. Il commissario era fortemente motivato nel risolvere il caso e trovare il colpevole. Cominciò così una serie di interminabili investigazioni, arrivando alla fine a Leonardo. Di fatti, le vittime erano state viste per l'ultima volta proprio mentre si recavano a casa sua. Non c'erano però abbastanza prove per incriminarla. Casualmente, un parroco, nel 1941, si recò a Reggio Emilia in banca per cambiare in denaro un buono del tesoro che si scoprì appartenere a Virginia Cacioppo. L'uomo venne messo sotto torchio e, dichiarandosi estraneo ai fatti, asserì di averlo ricevuto da un produttore di formaggio, tale Abelardo Spinelli, che a sua volta lo aveva ricevuto da Leonardo. Lei si giustificò dicendo che era stata proprio Virginia a lasciarle la sua roba e che quindi non poteva essere incriminata. I tre vennero arrestati, interrogati e rilasciati. Le prove non erano sufficienti. La donna seppe difendersi bene, mentre il suo figlio Giuseppe, una volta interrogato, confessò di aver spedito le cartoline e venne così arrestato. Leonardo, preoccupata per le sorti del figlio, non esitò neanche un momento e confessò i delitti, prendendosi tutte le colpe. La polizia andò a casa di Leonardo, controllò il pozzo nero e finalmente vi trovarono le prove che cercavano. Ossa, resti umani saponificati in parte, un pezzo di cranio ed una dentiera, che un tecnico confermò essere appartenuta ad una delle vittime. Il commissario non credeva che una donna di 50 kg, alta 1,50, avesse la forza di compiere atti del genere da sola. Accusò quindi il figlio Giuseppe di essere complice, ma la madre disse che ad averla aiutata fu Abelardo Spinelli, che riuscì però a dimostrare la sua innocenza. Quindi, Leonardo, per scagionare il figlio prediletto, raccontò per filo e per segno come avvenivano i delitti, con la speranza di far rilasciare suo figlio Giuseppe. Era stata arrestata diversi mesi dopo l'ultimo omicidio, ma a causa dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, il processo venne rimandato. In questo lasso di tempo rimase in parte nel carcere di Bologna, mentre dal 17 ottobre 1941 nel manicomio criminale di Aversa, in cui venne sottoposta perizia psichiatrica da un noto medico dell'epoca, Filippo Saporito, che la dichiarò affetta da psicosi isterica e totalmente inferma di mente. Scrisse un memoriale di 800 pagine, confessioni di un'anima amareggiata, raccontando di come avesse seguito ogni rituale per salvare la vita ai suoi preziosi figli, i pochi che le erano rimasti, i sopravvissuti. Si rivolgeva parlando di sé in due modi, Nardina, come la chiamava la madre, e Norina, il soprannome datole dal padre. La Nardina era la madre che tanto doveva soffrire, e non potendo nulla fare, si affidava a Norina, perché questa agisse, di modo che, quando arrivava il mio sposo, trovava una sposa affettuosa, buona, calma, come una statua di pietra. Ma quando questo sposo andava via, ecco l'altra, la Norina, risoluta a tutto, pronta a qualsiasi evento, a non indietreggiare davanti a nulla per salvare i figli di Nardina, e a questa Norina, Nardina ricorreva quando la disperazione la saliva. La veridicità del memoriale venne messa in dubbio, in quanto Leonardo, probabilmente, avendo frequentato fino alla terza elementare, non sarebbe stata in grado di scrivere in modo così erudito. Perciò alcuni pensarono che si trattasse di una trovata degli avvocati per fomentare l'idea della pazzia e quindi favorirne l'infermità mentale. Il 12 giugno 1946, presso la corte di Assise di Reggio Emilia, comincerà il processo a carico di Leonardo e suo figlio. La vicenda attirerà l'attenzione di tutti i media, che fino a quegli anni non si erano potuti occupare di cronaca nera, in quanto fortemente vietati dal regime fascista. La faccia di Leonardo era ormai nota e la storia della saponificatrice di Correggio era su tutti i giornali. Non ho ucciso per odio o per avidità, ma solo per amore di madre. L'accusa sosteneva la complicità di madre e figlio durante gli omicidi. Per la difesa, invece, Leonardo era una malata mentale, che davvero pensava di salvare i figli sacrificando vittime umane e che Giuseppe era solo succube di sua madre. Rabbiosa, non poteva tollerare che qualcosa succedesse al figlio, continuava ad insistere con fermezza di essere stata lei sola a commettere gli omicidi. Il medico legale dimostrò quanto fosse difficile per una donna liberarsi di un corpo nel modo in cui descriveva Leonardo e che inoltre, per saponificare, ci volevano delle conoscenze specifiche che lei aveva dimostrato di non avere, quindi, probabilmente, i resti delle donne erano ancora in giro da qualche parte. Leonardo, così, chiese loro di portare un cadavere, in modo tale da mostrare a tutti in che modo avesse ucciso le tre donne. La leggenda dice che fu portata in obitorio davanti al cadavere di un vagabondo morto per strada, che avrebbe poi smembrato, con estrema freddezza e lucidità, in 12 minuti. Ebbene, me le ho mangiate le mie amiche. Se vuole essere mangiato anche lei, son pronta a divorarlo. Le scomparse me le avevo mangiate una in arrosto, una stufato, una bollita. Alla fine del processo, la difesa dimostrò la seminfermità mentale e Leonardo venne condannata a 30 anni di reclusione, per triplici omicidio premeditato, continuato ed aggravato, per le rapine e la distruzione dei cadaveri e da tre anni di manicomio. Suo figlio Giuseppe, grazie ad una commuovente lettera della difesa, venne assolto per mancanza di prove, con enorme gioia di sua madre, che, nel tribunale, lo abbracciò. Visitò spesso la madre, che difendeva ancora, definendo il suo uno stato di follia, asserendo che anche sua nonna e la sua bisnonna erano morte in manicomio. Leonardo trascorse 24 anni in carcere, i primi anni in quello di Aversa, poi in quello di Pozzuoli. Il martello, il seghetto, il coltello da cucina, le scuri, la mannaia e il treppiede, gli strumenti di morte usati dalla Cianciulli, sono conservati nel Museo Criminologico di Roma. Qui nel manicomio giudiziario di Aversa, il più antico e famoso d'Italia, vivono uomini e donne che la società giudica doppiamente pericolosi, perché delinquenti e perché folli. Vittima della superstizione, spinta da un morboso ed aberrante amore materno, Leonardo Cianciulli ha ucciso. Credeva così di placare gli spiriti maligni che dovevano, secondo la profezia di una fattucchiera, ucciderle i figli. La legge mi ha condannato. E che mi importa della sua contanna? Trent'anni, l'ergastolo, l'ambucidazione. Ma che mi interessa a me? Dici a setti figli. Ah, cari miei, se anche a voi moriranno tredici figli, non solo faresti ciò che ho fatto io. Una madre solo può comprendermi, la legge mai. Forse la scienza mi ha compresa. I suoi modi di fare, la sua allegria, empatia e disponibilità le permisero di stringere amicizia anche al manicomio. Preparava dolci per tutte, ma che nessuna si azzardava mai a mangiare. Si credeva avessero all'interno sostanze magiche. Diceva alle compagne che sarebbe stata di nuovo libera nel 1970. E di fatti, il 15 ottobre 1970 esalò l'ultimo respiro, morendo a 78 anni. Leonardo Cianciulli, un'anima in pena che avrebbe fatto di tutto pur di salvare i figli, oppure una truffatrice avida e senza scrupoli. Dimmi cosa ne pensi nei commenti. Se il video ti è piaciuto e vuoi ascoltare altre storie, iscriviti al canale.